Giro di tavolo, che cos'altro oltre a questo vi ha fatto arrabbiare? Mario? Allora io queste settimane ho scoperto con raccapriccio e disgusto che in Italia, questo non è un tema strettamente economico, è un tema di civiltà, che in Italia quando un soggetto affetto da autismo raggiunge i 18 anni di età, per la burocrazia di questo ridicolo paese questo soggetto guarisce. Perché? Detto in altri termini, i suoi familiari, ovviamente i suoi familiari, devono rifare tutta la procedura burocratica per ottenere l'indennità di accompagnamento, che viene sospesa, poi viene recuperata cumulativamente, ma nel frattempo viene sospesa per un arco di tempo che può essere non breve, e per rifare e per ottenere tutti quei benefici, ad esempio quelli della legge 104 per i familiari e quant'altro. Perché? Evidentemente, io non lo so perché, cioè c'è qualcosa di intrinsecamente ributtante diciamo in questo modo di fare burocrazia in questo paese, per cui questo è un invito diciamo a chi di dovere, visto che stiamo facendo tutte queste incredibili riforme strutturali e quant'altro, cerchiamo magari per una volta di evitare di tenere in piedi un simile abominio, perché sarebbe bello, diciamo, se parlassimo di una patologia che al compimento del diciottesimo anno svanisce, però le cose non stanno in questi termini, per cui cerchiamo di fare uno sforzo di civiltà, a chi di dovere, in mezzo a tutte queste roboanti riforme che stiamo facendo, alcune di elementare buonsenso. Esatto, e poniamo fine a questo sconcio perché io non pensavo che si potessero toccare livelli così assurdi in questo paese. Perché la regola viene dal fatto che la presunzione generale che ha 18 anni ce la verifica, se sei ancora a carico del tuo vecchio nucleo familiare o se lavori. Questo la dice lunga su com'è il criterio che si applica a situazioni di questo tipo. Beh, se tu fai il conto che io conosco un falegname che, come molti falegname, purtroppo ha qualche mancanza di dito, perché ogni tanto li lasciano sotto le seghe circolari e fa la verifica ogni cinque anni se li sono ricresciute le dita. Se li sono ricresciute, eh? Evidentemente se li sono ricresciute perché deve fare la verifica dell'essere senza dita. Vabbè, vabbè, vabbè. Grazie a tutti.